Musica Stranieri accampati da giorni davanti alla questura di Sernia in attesa dei documenti necessari per l'accoglienza. Si spaccia per corriere e tenta di spillare 4.000 euro a un'anziana di pesche e sedicenne denunciato per truffa gravata. Il segretario nazionale di noi moderati Lupi a Campobasso per l'inaugurazione della sede grazie ai molisani che ci hanno premiato alle urne. A novembre a Sernia riapriranno gli ambulatori di cardiologia al veneziale in arrivo tre giovani specialisti. Visitatori entusiasti hanno scoperto i sapori del Molise, un successo e per molti una scoperta lo stand molisano alla fiera di Rimini. Buonasera dalla redazione di TVI Molise. Apriamo questa edizione del TG con la cronaca. Una violenta aggressione, quella subita dall'autista del bus Air Campania che copre la tratta Vairano Venafro. Protagonista della vicenda un cinquantenne che poco dopo la partenza della corsa delle 12.45 ha iniziato ad inveire contro l'autista. Quando il bus poi è giunto alla fermata di Presenzano, l'uomo ha atteso che gli altri passeggeri scendessero dal pullman e dopo aver preso a calci la porta della cabina dell'autista, gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Il conducente, 42 anni, originario di Montoro, provincia di Avellino, è stato costretto a chiedere aiuto agli uomini dell'arma che hanno fermato l'aggressore e lo hanno portato in caserma. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione. Vengono dal Pakistan e sono accampati da giorni davanti alla questura di Isernia, sia nelle ore notturne che in quelle diurne. Il loro obiettivo è quello di ottenere i documenti necessari all'eventuale accoglienza. Vediamo. Come era già accaduto nei mesi di luglio e agosto, da diversi giorni un nuovo gruppo di cittadini stranieri, provenienti più precisamente dal Pakistan, è accampato nel piazzale di via Palatucci davanti alla questura di Isernia. Sono giunti in Italia da un mese o anche più e hanno raggiunto il capoluogo Pentro con l'obiettivo di regolarizzare la propria posizione. Vengo dal Pakistan. Sono qui da 25 giorni, ma c'è anche chi è qui da un mese o 35 giorni. Siamo qui per ottenere i documenti. Durante il giorno stazionano accanto alla sede della polizia e di notte alcuni di loro si spostano poco più in là. Dormo qui, oppure sul marciapiedi accanto alla strada. Non hanno contanti, non hanno un luogo in cui trovare riparo o lavarsi. Non abbiamo una casa dove stare, non abbiamo niente. Per il cibo fanno affidamento sulla generosità dei cittadini. Molto spesso sono gli stessi agenti di polizia ad offrire loro i necessari pasti. Qualcuno ci aiuta procurandoci il cibo. I migranti, arrivati presumibilmente via terra e in forma autonoma, trascorrono le loro giornate in attesa di entrare in possesso dei documenti. Non faccio nulla, sto qui e basta. Aspettano che l'ufficio immigrazione della Questura, dopo aver effettuato l'identificazione, possa portare a termine la pratica per l'eventuale accoglienza. Poi sarà la volta della prefettura, a cui spetterà la ricerca di una struttura che possa eventualmente ospitarli. In passato, quest'estate, si era fatta avanti la Croce Rossa, che aveva messo a disposizione propri locali per fornire un tetto ai cittadini stranieri giunti a Isernia dopo un tragitto lungo e difficile attraverso l'Europa. L'auspicio è che il loro viaggio possa a breve concludersi. Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra mobile di Isernia sono intervenuti a pesche in quanto un ex poliziotto aveva segnalato che probabilmente si stava consumando una truffa ai danni di un'anziana signora. La tempestiva segnalazione e il pronto intervento degli agenti hanno consentito di fermare e identificare un sedicenne, residente nella provincia di Napoli, che fingendosi un corriere ha tentato di spillare alla pensionata circa 4.000 euro. Il giovane truffatore, condotto in questura, è stato denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona. Il complice, che si era dato alla fuga a bordo di un'auto presa a noleggio, è stato successivamente identificato e denunciato per gli stessi reati. Restiamo ancora sulla cronaca. La notte scorsa una banda di ladri ha tentato il furto di una macchina in pieno centro a Isernia. Qualcosa però è andato storto e i malviventi sono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un terzo complice che li attendeva. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine. Parliamo ora di politica. L'onorevole Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati, ha inaugurato a Campobasso la sede del partito. Nella sua visita in Molise ha incontrato simpatizzanti del suo partito e imprenditori. Nell'incontro con la stampa, toccati i temi della sanità molisana e dei prossimi interventi del governo. Vediamo il servizio di Francesco Adamo. Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati, questa mattina a Campobasso, per l'inaugurazione della sede del partito situata in Viale Elena. L'onorevole Lupi ha evidenziato il buon risultato ottenuto in regione dal suo partito. Beh, innanzitutto per dire un grazie, un grazie ai molisani che hanno dato un ottimo risultato alla lista Noi Moderati alle scorse elezioni regionali, più del 7,5%. E poi per ribadire che la nascita appunto del gruppo consigliare dei Noi Moderati, la nomina del consigliere cofelice a coordinatore regionale di Noi Moderati, è un segno del contributo che la nostra proposta politica vuole dare al centro-destra, ma innanzitutto anche a questa regione. C'è bisogno di recuperare responsabilità, concretezza, serietà, competenza, perché la politica tornerà ad essere vicina ai propri cittadini. Tanti impegni di governo. Innanzitutto la legge di bilancio, dove campeggia l'emergenza sanità. La prossima legge di bilancio vedrà, per forza di cose, anche un contributo alla regione Molise sul tema sanitario. Abbiamo da ridurre le liste d'attesa in tutta Italia e le infrastrutture. Venire qui è un'avventura. Siamo nel 2023 e il tema della natalità. Sono tanti problemi concreti e ancora una volta i molisani hanno avuto fiducia della proposta politica del centro-destra. Non possiamo deluderlo. Inevitabilmente un'attenzione all'Europa e dalla delicata situazione internazionale. Stiamo vedendo anche drammaticamente con quello che sta accadendo a livello internazionale. Non possiamo pensare di vivere da soli, isolati. Siamo protagonisti, dobbiamo essere protagonisti nell'Europa. L'Europa deve tornare ad essere protagonista in questo mare che si chiama Mediterraneo. Quello che sta accadendo in Israele ancora una volta ci interroga. Abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, in Ucraina. Una tensione internazionale drammatica in Israele, Cisdorzania. Quindi, insomma, essere protagonisti in Europa vuol dire far capire che l'Europa deve rimettere al centro la nostra gente. In conclusione si torna a parlare degli impegni di governo. Il Molise è interessato direttamente, visto che attende un aiuto specifico per la sua sanità agonizzante. Abbiamo poi alcune regioni che hanno particolare bisogno, ne abbiamo anche discusso. Il Molise è una di queste, la situazione la conoscete bene. Adesso, lunedì, declineremo quali contributi anche immediati possono essere dati alla regione Molise perché possa fare quello che deve fare una regione. Cioè, sul tema della sanità, ritornare ad essere al fianco dei propri cittadini con una dignità della cura che non può essere differente da regione a regione. Il Consiglio regionale Quintino Pallante ha convocato per martedì 17 ottobre alle ore 10 la prossima seduta dell'assise regionale. Sono 27 i punti all'ordine del giorno. C'è attesa per le nomine in seno a numerosi enti regionali tra cui l'azienda autonoma di soggiorno e turismo La Fin Molise, il Corecom, l'Arsap, Molise Acque e l'Arpa. Ennesimo ritrovamento di siringhe nel centro di Isernia, questa volta all'interno del Parco Stazione. La consigliera di minoranza Filomena Calenda chiede maggiore sicurezza e si dice pronta a presentare un'interrogazione all'attenzione dell'assise civica. Vediamo. Ancora siringhe nel centro di Isernia. Dopo i recenti rinvenimenti avvenuti nella parte antica della città, più precisamente in via dei Mulini accanto a Palazzo Iadopi e precedentemente in via Veneziale, questa volta gli spiacevoli ritrovamenti sono stati fatti nel Parco Stazione, luogo centralissimo e frequentatissimo sia da adulti che da famiglie. La segnalazione è arrivata da diversi cittadini che hanno divulgato l'informazione anche attraverso Facebook e che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine affinché le siringhe usate fossero prontamente rimosse. Tra gli utenti che attraverso i social network hanno acceso i riflettori su questo nuovo ritrovamento c'è anche la consigliera comunale del gruppo misto Filomena Calenda che si dice pronta a portare la questione all'attenzione dell'assise civica. Sono stata informata così come ho scritto sul mio post Facebook da una mia amica che mi segnalava proprio la presenza di diverse siringhe nel Parco Stazione e diciamo che le mamme sono davvero allarmate perché cosa succede? Lì vanno i bambini, vanno le mamme con cagnolini, con bambini, quindi diventa anche molto molto pericoloso e credo che un parco come quello della stazione che in realtà si sta cercando anche di valorizzare con attività e soprattutto per i nostri ragazzi che il pomeriggio sanno dove poter andare magari per stare insieme ai loro compagni succede che ci sono questi ritrovamenti che fanno davvero paura quindi segnalerò l'accaduto magari con un'interrogazione al sindaco perché io sono sicura che abbiamo tutti l'interesse a far sì che questo parco possa essere accessibile a tutti quanti. Una situazione che secondo l'esponente di minoranza di Palazzo San Francesco desta preoccupazione e per la quale vanno intraprese misure risolutive. Un'altra cosa importante è che però a volte siamo anche noi cittadini perché tante cose sono accadute in quel parco perché sono stati rotti degli attrezzi, delle ringhiere, adesso non ricordo bene quindi bisognerà innanzitutto chiuderlo in alcune ore perché nelle ore notturne o quando meno essere più vigili sulle condizioni del parco. Tra le possibilità per rendere più sicuro il parco della stazione Calenda si dice favorevole all'installazione di una rete di telecamere o a un servizio di vigilanza. Può essere anche opportuno adibire con telecamere ma soprattutto anche con chi vigili perché penso che ognuno di noi la sera se volesse fare soprattutto adesso il periodo sarà quello invernale quindi non credo che ci capiterà di andare al parco però se si ha voglia magari prima che venga la sera di fare una passeggiata dobbiamo essere anche tranquilli perché ci sono anche altri episodi che non sono belli neppure da raccontare di alcune persone che vivaccano proprio nel parco e ahimè le mamme hanno paura. Due minorenni individuati in via Gramsci a Campobasso e fermati dai carabinieri sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di banconote false. Il bilancio del controllo non ha lasciato spazio a dubbi il primo dei giovani aveva nascosto 13 dosi di hashish all'interno di un vasetto di vetro oltre a ciò sono state rinvenute anche sei banconote false da 10 euro il secondo ragazzo invece custodiva 1,37 grammi di hashish in un marsupio racchiusi in un cofanetto di plastica. San Vincenzo a Volturno la Pompei del Medioevo presso la Bazzia Medievale la presentazione del nuovo libro del professor Richard Hodges che spiega c'è bisogno di un cambio di direzione per fare di questo sito anche una risorsa turistica. Per noi c'era Domenico Marzocchella. Il petrolio del Molise è la cultura da un luogo di importanza assoluta nel contesto della storia medievale d'Europa la Bazzia di San Vincenzo che vedete alle mie spalle parola del professor Richard Hodges. Pronunciata dal presidente merito dell'Università Americana di Roma e docente di archeologia all'Università East Anglia la considerazione ha un peso specifico tutto diverso rispetto alle dichiarazioni di intenti su cultura e a stretto giro turismo nelle quali di sovente ci imbattiamo. L'archeologo inglese arrivò in Molise 45 anni fa con lui prese il via la più imponente campagna di scavo nell'area della cripta di Epifanio scoperta del tutto casualmente 150 anni prima. Hodges da subito rimase impressionato dalla straordinaria rilevanza storico-archeologica del sito. Da allora il legame dello studioso con San Vincenzo a Volturno è diventato indissolubile. L'ultima riprova in ordine di tempo il suo nuovo libro La Pompei del Medioevo San Vincenzo al Volturno dagli origini al sacco dei Saraceni nel pomeriggio di ieri la presentazione dove nel luogo più congeniale proprio la Bazzia lo abbiamo incontrato lì nel suo italiano dallo spiccato accento inglese il professore ci ha colpito per la sua verve e per la lucidità di visione sul futuro dell'Abbazia che potrebbe diventare anche una risorsa turistica e quindi economica per il Molise. Questo è uno dei più importanti posti in Europa verso l'Ottocento. Quando c'era la nascita di nostra Europa a quel momento San Vincenzo come Monte Cassino e parecchi altri monasteri italiani sono state proprio le città del periodo non c'era una grossa città a Milano a Firenze a Napoli c'era San Vincenzo. Professore, lei è qui dal 1979 a condurre i suoi studi in tutti questi anni cosa è cambiato qui in termini di valorizzazione di questo luogo? Ah, una buona domanda. Io credo che finora 30 anni fa abbiamo parlato di un parco archeologico con un flusso di turismo con la creazione di lavoro e occupazioni per quelle persone in questi paesi. Questo non è successo. Ora io so che il nuovo pollo musiale a Campobasso ha un programma di cambiare questa situazione ma ci vuole un flusso di turismo non 5.000 100.000 un anno ci vuole una bigliettoria che si vende tutti questi biglietti creando occupazioni per persone qua e soprattutto creando di nuovo lo status di San Vincenzo. Dunque rendere questo posto più conosciuto e più facilmente conoscibile ma neanche i molisani lo conosco. pararsi ma 30 anni fa io ricordo 800 persone a una ricezione così tutti i molisani e per dire la verità ci vuole un cambiamento di direzione in cui il petrolio italiano è sua cultura. Entro novembre è prevista la ripartenza del reparto di cardiologia dell'ospedale veneziale di Isernia da novembre infatti entrerà in servizio un giovane cardiologo di Venafro specializzato in emodinamica a Siena a metà mese arriverà un altro giovane cardiologo anche lui specializzando a Siena sempre in emodinamica infine sempre a novembre prenderà servizio un terzo giovane cardiologo in modo da consentire la riapertura degli ambulatori con l'arrivo dei tre emodinamisti gli infartuati non dovranno più essere trasportati al cardarelli di Campobasso dal progetto Molisani uno strumento che pone l'accento sull'importanza della dieta mediterranea e di altri fattori di rischio modificabili nel contesto italiano vediamo il servizio di Caterina Gianfrancesco dal progetto Molisani nasce Molisani Risk Score uno schema numerico che aiuta i medici a capire quali comportamenti di prevenzione sono importanti per singolo paziente al fine di scongiurare lo sviluppo di una patologia cardiovascolare i Risk Score sono strumenti fondamentali per i medici che vengono così aiutati ad identificare chi è a basso o alto rischio di malattia guidando decisioni cliniche più personalizzate pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Cardiology l'algoritmo è stato realizzato nel contesto della rete cardiologica degli IRCS dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed in collaborazione con Mediterranea Cardiocentro di Napoli e altri istituti italiani i fattori di rischio presi in considerazione dall'algoritmo sono abitudine al fumo dieta livelli di colesterolo LDL e HDL trigliceridi e glucosio pressione arteriosa massa grassa e attività fisica tutti ben conosciuti e soprattutto tutti modificabili con semplici cambiamenti del proprio stile di vita ciò che rende il Molisani Risk Score particolarmente innovativo e rilevante è l'inclusione nel calcolo del contributo della dieta mediterranea riconosciuta per i suoi effetti benefici sulla salute cardiovascolare il Molisani Risk Score tiene conto delle specifiche peculiarità del contesto italiano come sottolinea Augusto di Castelnuovo del Mediterranea Cardiocentro di Napoli grazie a questo approccio ponderato e alla focalizzazione sulle caratteristiche specifiche della popolazione italiana il nuovo algoritmo è qualcosa di unico nel suo genere e potrà migliorare l'efficacia degli interventi di prevenzione l'algoritmo aggiunge poi Licia Iacoviello del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Neuromed renderà più facile ai medici comunicare con le persone interessate sarà in particolare utilizzato nello studio di intervento CV Prevital della rete cardiologica IRCS e sarà il primo algoritmo interamente sviluppato in un paese europeo avendo quindi il potenziale per essere utilizzato in popolazioni che condividono caratteristiche simili realizzazione del centro diurno Alzheimer a Isernia a martedì prossimo nella sede dell'ASREM il direttore generale Giovanni Di Santo incontrerà i referenti dell'associazione Non ti scordar di me alla luce del confronto positivo avuto in merito con il presidente della regione Francesco Roberti lo scorso settembre ora sperano di trovare una soluzione con Di Santo per l'attivazione del centro diurno atteso ormai da quattro anni visitatori entusiasti hanno scoperto i sapori del Molise un successo e per molti una scoperta lo stand molisano alla fiera di Rimini i dettagli con Domenico Marzocchella mandorle e tarali di Venafro un assaggio delle tante prelibatezze made in Molise presentate a Rimini nel quartiere fieristico della città romagnola a proposito che location spettacolare chiude i battenti oggi la sessantesima edizione di TTG Travel Experience il Molise ed è questa la notizia si è fatto notare chiedere alle centinaia di avventori che in poche ore hanno preso d'assalto lo stand nostrano ispirato alla scoperta del territorio molisano e della sua ricchissima biodiversità una epifania di prodotti tipici in grado di deliziare anche i palati più esigenti parallelamente altro obiettivo della presenza molisana pure connesso con la promozione turistica dei nostri territori dare nuovo impulso alle botteghe e artigiane nei borghi della regione in quest'ottica la firma dell'accordo programmatico tra le due associazioni presenti in rappresentanza della regione AAST l'azienda autonoma di soggiorno e turismo a cui si deve il meraviglioso stand con il commissario straordinario Remo di Giandomenico e Confartigianato Imprese Molise con il presidente Romolo Dorazio è un accordo più unico il turismo che propone l'artigianato e l'artigianato che propone il turismo se pensiamo bene alla fine ciò che caratterizza i nostri territori sono le botteghe artigiane i borghi è questo che piace ai turisti che vengono in Italia ma soprattutto i molisti che è ancora una terra abbastanza sconosciuta da questo punto di vista e quindi questo accordo prevede di utilizzare come driver dei percorsi turistici le botteghe artigiani e l'artigianato in generale identità 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 sinergia innovazione sono le fondamenta della strategia tese alla valorizzazione turistica del Molise su cui attori istituzionali e imprenditori del settore in tutto una ventina si sono confrontati nel corso della tre giorni il Molise è una regione unica e speciale in cui ogni viaggiatore trova spunti di scoperta dai paesaggi ai sapori dalla storia alle tradizioni pensieri e parole della giornalista a Lucia Iannucci nuovo editore del prestigioso mensile di turismo itinerari e luoghi come non essere d'accordo partirà domani da Isernia e più precisamente dal piazzale del centro commerciale in piazza la competizione nazionale Enduring Mari e Monti il motorelli che avrà lo start alle 9.30 vanta un percorso adrenalinico naturalistico 400 km dalle montagne alla costa da Isernia a San Salvo Marina sulla splendida costa abruzzese arrivo al tramonto sulla spiaggia e il ritorno il 15 ottobre con gran finale sempre al centro commerciale in piazza oltre 70 i partecipanti provenienti da tutta Italia approvata dalla giunta comunale di Campobasso la delibera sullo studio di fattibilità del progetto il giardino storico di Villa De Capoa tra biodiversità e socialità previsto un finanziamento di circa 2 milioni di euro vediamo il servizio di Francesco Adamo la Villa De Capoa a luogo caro i Campobassani e quanti amano il verde e la bellezza dei giardini italiani sta per essere restaurata infatti la giunta comunale con la delibera numero 286 ha provato lo studio di fattibilità tecnica ed economica il giardino storico di Villa De Capoa fra biodiversità e socialità presentato da un raggruppamento temporaneo di professionisti per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici l'intervento ha messo a finanziamento a valere sul PNRR missione digitalizzazione innovazione competitività cultura e turismo prevede un importo complessivo stimato a montante a circa 2 milioni di euro il progetto nasce dall'esigenza del comune di riqualificare e restaurare la villa comunale nella sua compagine architettonica e vegetale al fine di restituirla alla comunità non solo come parco urbano ma come elemento di divulgazione scientifica attraverso la valorizzazione della biodiversità presente all'interno del giardino la villa di origini settecentesche si trova nel luogo dove sorgeva il monastero di Santa Maria delle Grazie fondato nel 1510 dal feudatario Andrea di Capua lì sorgeva un orto botanico che i monaci utilizzavano per la coltivazione delle erbe e per la preparazione dei medicinali naturali nel 1875 la villa fu donata alla città dalla contessa Mariana di Capua ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo con la rassegna cura di Antonia Cristinzio Sicarla il nostro aggiornamento sulle notizie delle ultime ore Sky TG24 la guerra tra Israele e Damas incursione in cerca di ostaggi a Gaza bombe sugli sfollati infanteria e forze corazzate stanno perquisendo l'area alla ricerca di prove Esbollah ha detto colpiremo al momento giusto cominciato l'esodo da Gaza City dopo che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della striscia entro 24 ore il presidente palestinese è come l'esodo del 1948 il ministero dell'interno di Hamas invece ha inviato la popolazione del nord a non muoversi dalle case il reporter ucciso nel sud del Libano lavorava per Reuters sull'Ansa altre notizie sul tema Wonderlion più atroce attacco ai brei dall'olocausto Mezzola invece ha detto fermare Hamas e lavorare su conseguenze umanitarie TGcom24 in Francia uccide insegnante in un liceo a grido di Allahu Akbar l'assalitore era già schedato ci sono anche due feriti gravi in un liceo di Arra nel nord del paese a colpire è stato un ex allievo di origini cecene fermato dalla polizia insieme ad altri tre Macron ha detto sventato un altro tentativo di attentato a DN Kronos la manifestazione di oggi a Roma tensioni al corteo degli studenti collettivi della sapienza in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra erano queste le notizie di questa sera Carla grazie Antonia per gli approfondimenti serali ora c'è il meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV Molise diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di oggi venerdì 13 ottobre per la giornata di oggi sulla nostra regione si prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie ma comunque al di sopra delle medie stagionali venti dei quadranti sud occidentali mare calmo temperature Campobasso minima 12 massima 26 Sernia minima 14 massima 27 Termoli minima 18 massima 25 Benafro minima 15 massima 27 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani sabato 14 ottobre per la giornata di domani il trend resterà invariato rispetto a quanto delineato per la giornata odierna con tanto sole temperature stazionarie e valori prettamente estivi venti dei quadranti sud occidentali mare calmo temperature Campobasso minima 11 massima 27 Sernia minima 12 massima 26 Termoli minima 19 massima 27 Benafro minima 13 massima 26 le previsioni del tempo chiudono questa edizione del telegiornale grazie per essere stati con noi e buona serata grazie per la visione